Sarà portato alla seduta di lunedì prossimo del Consiglio Comunale di Gubbio la delibera contenente lo schema di contratto d'acquisto dell'immobile di piazza 40 Martiri, l'ex ospedale. La svolta arriva dalla riunione congiunta di ieri della prima e seconda commissione consigliari presedute dai consiglieri Sarli e Cacciamani, presente l'assessore Di Benedetto e il dirigente Casagrande. Ed è stato un voto unanime di 11 consiglieri, 7 di maggioranza, 4 di opposizione, a dare il sì alla delibera con l'uscita dall'aula del solo Pierotti di Gubbio partecipa. La delibera, che sarà votata lunedì a Palazzo Pretorio, prevede l'acquisto totale dell'immobile di piazza 40 Martiri, l'ex ospedale, da parte del Comune. 6 milioni il valore del complesso, anche se dallo schema di contratto la cifra potrebbe subire una variazione al ribasso. Infatti l'accordo prevedrebbe due condizioni, che l'acquisto si perfezionasse solo dopo l'espletamento della gara PUC 2 e che la Regione esprimesse una disponibilità a rivedere il prezzo d'acquisto entro due mesi dalla stipula definitiva dell'atto alla luce del trend decrescente del mercato immobiliare rispetto al periodo in cui l'atto venne definito dalla precedente amministrazione. Significativo comunque sul piano politico il sì unanime della Commissione, tra maggioranza e opposizione, in attesa di sapere lunedì come si esprimerà tutto il Consiglio. Dopo la soluzione del nodo relativo al PUC 1 con l'approvazione del contratto di transazione destinato a riportare al Comune l'immobile prevedendo un intervento per 275 mila euro di lavori strutturali, dunque anche il PUC 2 di piazza 40 Martiri potrebbe essere sulla via di una soluzione. Il condizionale però, in attesa di lunedì e visto anche quanto accaduto in passato, resta quanto meno opportuno.